E' morta dopo più di 40 giorni in ospedale Antonella Iaccarino, la donna di 48 anni che riportò gravi ustioni dopo che un vicino di casa, Francesco Riccio, la cosparse di liquido infiammabile per poi darle fuoco con un accendino. L'uomo, a un pregiudicato di 53 anni, fu spinto da dissidi legati a liti condominali. Venne arrestato per tentato omicidio aggravato da futili motivi, ora dovrà rispondere di omicidio. La vicenda è avvenuta nel comune di Quarto, in provincia di Napoli, il 5 settembre scorso. La donna riportò gravi ustioni su gran parte del corpo, la sua colpa aver steso un lenzuolo dal balcone che sporgeva fin davanti all'ingresso del garage del vicino, quando Riccio l'ha vista nel cortile la ragionta e l'ha cosparsa di liquido infiammabile. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, Riccio, a causa del litigio, avrebbe appiccato il fuoco, verosimilmente utilizzando un accendino. Il materiale combustibile, che era stato cosparso sia sulla donna che sulla sua auto, avrebbe fatto divampare subito il vasto incendio. Al momento, la salma della vittima è a disposizione della procura di Napoli.